Vincitori del moto estate Alessandro Traversano, vincitore delle moto di serie Giampaolo Cristini Allora passiamo ovviamente la parola a chi ha conquistato anche la vittoria nell'assoluto Un pilota che penso non abbia bisogno di presentazioni ma che a Farano va sempre forte E' lui che ha fatto anche il record del circuito, non oggi ma in altre occasioni Allora Farano è terra di conquista Non mi posso lamentare a dire la verità, ho preso anche la moto nuova quest'anno Kawasaki che non c'è mai in corso con il mio E' la seconda gara che faccio, vedo che va sempre meglio Ci avvicineremo, speriamo, al record della pista nelle prossime gare, speriamo Senti, le prossime tappe del moto estate li portano in Franciacorte a Modena, ci sarai? Non ci sarò perché io organizzo appunto prove libere in pista qui con la Ligure Bike Tutte le date del moto estate mi combaciano con le date che organizzo appunto con Ligure Bike Quindi non farò tutto il campionato ma qualche wild card così pagante, via Dalla Ligure ci spostiamo in provincia di Brescia con Giampaolo Cristini Finalmente la fortuna di sorridere un po' dopo tanto tempo davvero travagliato Perdonvi questo termine ma è molto veritiero No è vero, sono contento del risultato, abbiamo avuto tanti problemi in questo weekend, sono anche caduto Però dai abbiamo portato a casa tutti, portati per il campionato Mi spiace per il mio diretto avversario che non c'era, non c'era, non so perché E volevo ringraziare l'organizzatore che è sempre bravissimo a organizzare questi eventi qua E va bene, ringrazio il mio sponso, i miei amici, tutto bene Benissimo, ringraziamo noi adesso i protagonisti, bocca al lupo per la prossima spira Ciao, ciao alle grandi, ciao ragazzi